Musica 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 Abbiamo accolto con molto entusiasmo l'iniziativa promossa dalla dottoressa Rossella Scannavino, persona che gode la nostra più grande stima perché ha sempre mostrato una grande professionalità nello svolgimento di tutte quelle che sono le direzioni artistiche, le attività appunto collegate al cinema e alla cultura. Ringraziamo la Regione Sicilia, l'assessorato al turismo per la possibilità che è offerta alla nostra città di poter ospitare qui una manifestazione di questa valenza culturale e non solo anche artistica, è stato per la nostra città un momento di grande entusiasmo la passeggiata nel corso di tutte appunto queste simpatiche figure vestite con abiti del Settecento e ancora con maggiore entusiasmo è stato accolto il ballo che si sta tenendo appunto presso Palazzo Butera che dà quel tocco di magia tipico appunto della festività natalizia e non solo. Accoglieremo sempre con grande entusiasmo tutte queste attività perché arricchiscono quella che è l'offerta culturale, offerta culturale su cui noi puntiamo tanto perché riteniamo che una comunità possa essere considerata tale anche tramite la crescita e l'arricchimento appunto culturale. Rinnovo i miei ringraziamenti quindi alla Regione Sicilia, all'assessorato al turismo e anche alle associazioni che si spendono sul territorio. Non per ultima la Piana d'Oro che è anch'essa protagonista di quest'ultimo evento, la Piana d'Oro che comunque si è molto spesa per il nostro territorio organizzando vari eventi di grande rilievo come lo Sfincione Fest, in questo momento si sta celebrando nel corso il Buccellato Fest, quindi fondamentalmente noi non possiamo che essere vicini a quelle che sono le associazioni che promuovono il nostro territorio sotto un profilo artistico, culturale, enogastronomico che è l'aspetto su cui noi puntiamo molto perché vanno a rafforzare quella che è l'offerta turistica che noi proporremo di qui a breve alle numerosi tour operator. Siamo venuti qua a Bagheria circa due anni fa, ci siamo incantati di questo posto, poi abbiamo conosciuto un po' Rossella Scanarino che si interessa con la sua associazione e ci ha portato in questo posto meraviglioso. Io ho un gruppo esattamente di 25 persone che veramente siamo tutti affascinati di fare balle d'epoca e stiamo cercando di girare un po' la Sicilia e credo che ci stiamo riuscendo con grandi imprese perché abbiamo tanti impegni che sono in programma. Questa esperienza è stata meravigliosa anche perché ci ha dato l'opportunità di fare conoscere a un pubblico un poco più ampio quella che è stata l'evoluzione del costume d'epoca partendo dal 1700 fino ai primi del 900 quindi con le modifiche sui tessuti, sulla moda un po' in generale. Insieme a questo quindi quelli che sono gli usi e costumi. Quindi questo è stato un bel esordio per poterlo fare conoscere al pubblico. Noi ci siamo inseriti in questo contesto anche portando dei balli perché abbiamo voluto fare conoscere alla gente quelle che erano le loro usanze quindi di gentilezza e di usi e costumi in un senso più generale che vanno oltre quelli che sono gli abiti, un poco il modo di vivere. Chiaramente parliamo sempre di gente benestante perché è chiaro che anticamente non era per tutti i rosa e i fiori però abbiamo potuto portare questo spaccato un po' a conoscenza di un grande pubblico. Abbiamo organizzato quest'evento dove volevamo dare alla gente la possibilità di andare indietro nel tempo partendo dal 1700 che è comunque il periodo in cui Bagheria vive il suo momento di splendore con i nobili e poi arrivare quindi passare tutto l'800 e arrivare fino ai primi del 1900. Un po' anche per rendere omaggio alla famiglia Florio che in quest'ultimo periodo sta avendo tanto successo grazie al libro di Stefania Aucci. Quindi abbiamo pensato di mettere su questo evento insieme all'associazione Belle Epoque. Poi abbiamo anche avuto come collaboratori l'associazione, anzi la community Siciliando, una community di ben 65 mila persone che segue tutto ciò che di importante c'è in Sicilia e quindi è stato per noi anche un onore poter collaborare con loro. Inoltre abbiamo avuto la possibilità di avere dei costumisti come per esempio Angela Costa e Ignazio Rondone e quindi abbiamo potuto esporre i vestiti. Sempre grazie all'associazione Belle Epoque si è potuto avere il corteo storico e il gran ballo dell'800 e quindi è un'esperienza molto interessante da riproporre sicuramente. Un'ultima cosa, ringrazio chi ci ha permesso di essere in questa splendida location e quindi il comune di Bagheria con il sindaco Filippo Maria Tripoli, l'assessore allo spettacolo Maurizio Logalbo e l'assessore al turismo Brigida Laimo. Poi ringrazio di aver avuto il patrocinio dell'assessorato regionale al turismo sport e spettacolo. Grazie a tutti.